la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno e buon giovedì a tutti e ben trovati con l'appuntamento mattutino con la nostra rassegna stampa andiamo a sfogliare le pagine dei quotidiani i principali titoli e i principali argomenti trattati dai quotidiani ne dico la questa mattina vediamo quali sono in particolare partiamo dalla prima pagina del mattino nazionale che si concentra con il titolo di apertura sulla spaccatura all'interno del partito del Movimento 5 Stelle vediamo Conte sostegno a Draghi ma il Movimento 5 Stelle si spacca ancora Fico contro Di Maio la scissione è un'operazione di potere Grillo niente Roma il ministro in cassa altri sì per il suo gruppo passa intanto la mozione su Kiev e poi il racconto Luigi e il feudo di Pomigliano ha fatto bene nel feudo di Gigino a Pomigliano sono tutti o quasi con la scelta del ministro di lasciare i 5 Stelle andiamo avanti cambiamo argomento raid in territorio russo l'offensiva con i droni USA pronti a schierare truppe in Lettonia e poi ancora in alto Napoli il caso condono shock 200 anni per smaltire le pratiche per evadere le pratiche in attesa di condono ai ritmi attuali il comune di Napoli impiegherà continuando così 200 anni dal 1985 al municipio sono state presentate 83 mila istanze di condono di queste dal 2006 sono state evase poco più di 40 mila pratiche relative a zone non vincolate circa 700 all'anno mentre solo 30 all'anno quelle evase per le zone vincolate andiamo di fondo l'analisi la riforma dell'autority non è più rinviabile riflessi della guerra in Ucraina l'inflazione le convulsioni della politica la ravvicinata prospettiva elettorale rendono ancora più importante sia pure con alcuni limiti il ruolo delle autorità di regolazione contro controllo e garanzia e poi i dati economici gli Stati Uniti l'Europa e il Sud quei destini incrociati mentre le correnti dell'anti-americanismo si nutrono ben oltre gli errori compiuti dagli USA negli ultimi anni di un minaccioso tentativo di ritorno a un nazionalismo aggressivo e a un populismo irresistibile irresponsabile emergono questioni geo-economiche di fondo con le quali anche l'Europa dovrà fare i conti centro pagina polsi e denti rotti ragazzini arruolati per i finti incidenti assicurazioni truffate ad Avellino 267 gli indagati coinvolti medici e avvocati disabili tra le vittime e poi si torna a parlare del caso Maradona così hanno lasciato morire Diego 8 tra medici e infermieri a processo andiamo in basso parliamo degli esami di maturità ieri si è tornato alla normalità dopo i due anni di esami un po' speciali per effetto della diffusione del covid ieri le tracce di italiano i ragazzi ragazzi e ragazze si sono dovuti hanno dovuto presentare il loro elaborato di italiano per quanto riguarda proprio le tracce dei temi proposti vediamo l'analisi che il mattino propone proprio in merito ai temi presentati dal ministero dell'istruzione sottoposti quindi ai ragazzi per questo esame di maturità ma vediamo anche quali sono i temi più scelti maggiormente scelti dai giovani vediamo se i vinti di verga sono vicini ai giovani e poi il mio esame in ospedale dopo i trapianti c'è anche il racconto di alcuni ragazzi che ieri sono stati alle prese che sono alle prese tuttora con gli esami di maturità in particolare in questo caso troviamo il caso del giovane che ha dovuto svolgere il suo esame di maturità in un ospedale cambiamo argomento o andiamo nei box sotto il titolo di testata vediamo il docufilm Troisi raccontato da Martone lui continua a parlarci per il calcio parliamo della Salernitana Granata per l'attacco spunta anche Lasagna Diuric dentro o fuori e poi vedremo anche sugli altri quotidiani che si pensa anche ad Arcadius Milik per quanto riguarda sempre l'attacco della Salernitana invece per il Napoli ci si concentra sul caso Osimène vediamo affari Osimène già interrogati due azzurri ceduti al Lille questo per quanto riguarda l'inchiesta che coinvolge il Napoli lasciamo la prima pagina del mattino nazionale andiamo avanti vediamo invece quali sono i principali titoli per il mattino di Salerno vediamo che troviamo oggi sul mattino di Salerno l'intervista al neodirettore dell'aslo di Salerno Gennaro Sosto che parla di un nuovo modello per quanto riguarda la sanità salernitana vediamo più medici nuovo modello il neomanager aslo un piano per coprire le carenze di personale anche nei centri disagiati di Gennaro Sosto e l'emergenza negli ospedali salernitani percorsi innovativi e tecnologie torneremo su questo argomento nelle pagine successive ora andiamo avanti violenza all'Umberto I non c'era caos al pronto soccorso minacce e pugni alla dottoressa torniamo a parlare anche qui sulle pagine del mattino di Salerno del caso all'interno del Movimento 5 Stelle e delle divisioni all'interno del Movimento 5 Stelle vediamo che Cosimo Adelizzi annuncia di essere dalla parte del ministro Di Maio vediamo Adelizzi unico salernitano con Di Maio ma cresceremo queste le parole di Adelizzi andiamo di fondo la scuola la maturità della riscossa traccia ok ansia sconfitta la loro maturità ha preso il via già a marzo 2020 quando lo scoppio della pandemia da Covid ha sconquassato normalità e vite frequentavano il terzo anno delle superiori la prova più lunga i 16.692 maturanti salernitani l'hanno già superata a pieni voti tre anni di pandemia di didattica a distanza e digitale integrata per l'ambiente rifiuti in strada SOS ristoratori cambiare gli orari del conferimento e andiamo ora a centro pagina l'economia import ed export record Salerno traina la regione vola il settore enogastronomico valorizziamo le eccellenze in controtendenza rispetto alla media italiana e poi troviamo l'intervista ad Andrea Prete ma crescono anche i costi e la guerra ci preoccupa per la fotonotizia salernitana in primo piano Granata c'è anche lasagna pressing per il talento Ocoli Diuric giorni decisivi Ederson sempre più vicino all'Atalanta per quanto riguarda invece il calcio a 5 Fede Fendi finale a Pesaro per entrare nella storia scudetto ad un passo andiamo in basso la curiosità la prova del DNA contro i cani che sporcano a Trani multe e padroni e nel mirino finiscono anche i turisti questa è la prima pagina del mattino di Salerno vediamo invece quali sono i principali titoli per il quotidiano le cronache in apertura ASL l'inchiesta stipendi ai dirigenti la procura controlla i pagamenti d'oro in corso accertamenti contestato il mancato controllo degli emulamenti del direttore generale collaboratori amministrativi percepiscono cifre altissime ogni mese ASL sempre sotto i riflettori in alto woman at work Salerno terminal container assunzioni in rosa e poi il caso 5 stelle si schiera anche il governatore della regione campagna De Luca che apre al bibitaro meglio tardi che mai Ciarambino via lascia il movimento 5 stelle andiamo avanti quelli del Nettuno dopo Fulvieto morto il presidente Gigino Soldi il ricordo di Gravagnolo e poi in basso o meglio a centropagina vediamo anche Salerno interviene sul caso della pizza dopo le parole di Briatore che parlava della pizza di Napoli e campana scadente per quanto riguarda i prodotti ha visto il costo esiguo rispetto invece alle pizze offerte nei suoi ristoranti vediamo Briatore ha copiato la pizza salernitana biscottata Gianluca Vitolo un locale alla moda viene scambiato per un tempio del gusto pizzaioli contro i prezzi esosi 15 euro per una margherita e poi l'evento la grande festa del McDonald domani a Battipaglia c'è Valeria Marini per la salernitana Ederson va all'Atalanta si tratta Torsby Joe Pedro si del Cagliari e poi ancora di fondo l'intervista tassa sul biliardino multa anche se gratis Raffaele Pisacane è assurdo ancora Agropoli consiglio altra fumata nera il PD prende il vice sindaco e poi troviamo le interviste qui ci riallacciamo agli esami di maturità che sono partiti ieri tre presidi ricordano il loro esame di maturità queste le prime pagine dei nostri quotidiani torniamo ora sul mattino nazionale andiamo ad approfondire i temi di carattere nazionale dalle pagine del mattino partendo dal caso del Movimento 5 Stelle con le divisioni interne e il distacco dal Movimento del Ministro Di Maio intanto però Conte annuncia comunque ancora supporto al governo vediamo Conte non strappa con il governo restiamo al governo queste le sue parole ma i suoi sono divisi l'avvocato predica coesione per placare i dubbi degli eletti sentirò Draghi ma non chiedo le dimissioni di Luigi da ministro stoccata all'ex non si permette di minare l'onore del movimento vogliamo parlare dei gilet gialli e poi il premier per caso che ora vede sgretolarsi il sogno mai negato di tornare a Palazzo Chigi andiamo in basso il retroscena Buffagna attacca valutiamo se uscire e i venti di crisi ora agitano i grillini si riorganizza il fronte di chi vorrebbe lasciare l'esecutivo per spezzare l'immobilismo chiudiamo questa pagina lasciamo questo tema andiamo ora avanti parliamo proprio della politica in particolare con le mosse del centro-destra dopo l'approvazione della mozione di fratelli d'Italia vediamo Ucraina stop ambiguità le mosse del centro-destra il governo apre a Meloni e passa la mozione di fratelli d'Italia parliamo della mozione in cui fratelli d'Italia chiedeva di condannare l'attacco all'Ucraina e di manifestare il suo sostegno proprio il sostegno scusate dell'Italia proprio agli ucraini e in questa battaglia la leader parla in aula non possiamo essere l'anello debole dell'Occidente le sue parole convincono l'esecutivo a non dare parere contrario e quindi c'è il sì grazie a noi l'Italia andrà in Europa con una posizione chiara in politica estera ossia l'appoggio a Kiev e in basso la Lega si ritrova primo partito ora l'agenda la dettiamo noi e con l'ascissione del Movimento 5 Stelle il Carroccio diventa il gruppo più grande della maggioranza e Salvini si prepara ad alzare le richieste il leader pronto a farsi sentire su bilancio e pensioni ma tra i suoi c'è anche chi vuole staccare la spina all'esecutivo chiudiamo questa pagina di politica andiamo avanti parliamo di un altro tema caro agli italiani ossia il caro energia dal governo c'è l'ok ci sarebbe l'ok per nuovi aiuti e sostegno proprio per evitare questi aumenti per limitare questi aumenti in questo periodo anche di inflazione vediamo bollette altri tre mesi di aiuti e spinta agli stoccaggi piano pronto sui carburanti questo è il titolo prorogato l'azzeramento in bolletta degli oneri di sistema e lì va il 5% sul gas cambia la tassazione sugli extraprofitti un contributo mensile per gli importatori Giorgetti Arera dia adeguata pubblicità all'accesso agli sconti non automatici e poi l'intervista giusto un tetto sul prezzo del petrolio serve l'intesa globale no patti episodici chiudiamo questa pagina andiamo avanti altro tema la siccità in questi giorni caldi di giugno vediamo la grande sete dei territori così titola il mattino siccità sia l'emergenza fiumi osservati speciali protezione civile e regioni stabiliscono i parametri pesa anche la capacità delle dighe Piemonte Emilia Lombardia Veneto e Umbria le regioni più colpite dalla crisi idrica curcio dal punto di vista meteo non ci attendiamo un'inversione di tendenza nei prossimi giorni il ministro Patuanelli ha auspicato un percorso che vada verso l'obbligo assicurativo per gli agricoltori e andiamo in basso la riforma autonomia differenziata si accelera governatori a confronto con Gelmini livelli essenziali delle prestazioni al centro della discussione scuola Bonaccini via dalle competenze e con questa pagina ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità torniamo tra pochissimo restate con noi bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa andiamo sulle pagine dei quotidiani salernitani andiamo sul mattino di Salerno lo abbiamo visto anche dalla prima pagina il record per le imprese salernitane per l'import e l'export è un settore trainante per tutta la campagna i risultati proprio delle aziende salernitane vediamo l'economia e i risultati import ed export da record Salerno traina la campagna questo è il titolo il settore enogastronomico tira la volata numeri in controtendenza rispetto all'Italia spazio ad analisi e riflessioni dell'evento targato Promos e Camera di Commercio da Pozzo della Promos un piano per il Sud assistiamo le aziende nei processi da e con l'estero valorizzando le nostre eccellenze a centro pagina l'intervista prete ma crescono anche i costi attenzione alla crisi bellica provvigionamente sempre più difficili e perdita del potere d'acquisto servono interventi urgenti per l'inflazione andiamo in basso donne tra gru e banchine Gallozzi lancia la sfida Women at Work il programma per le quote rosa alla SCT Terminal già 20 adesioni alla presentazione e chiudiamo questa pagina andiamo avanti parliamo ora di sanità parliamo dell'asl di Salerno con le prime parole del nuovo direttore generale dell'asl di Salerno Gennaro Sosto vediamo nuovi modelli organizzativi negli ospedali senza medici il neomanager dell'asl Salerno questa è l'azienda campana più vasta e complessa le carenze di personale sono evidenti vanno colmate anche nei centri più disagiati paghiamo lo scotto del blocco delle assunzioni nelle regioni commissariate soprattutto al sud dovremo inventarci sistemi per vincere le difficoltà orografiche e investire sulle tecnologie nuovi modelli organizzativi di gestione per lenire la carenza di personale e garantire l'assistenza anche nei piccoli territori interni disagiati sono gli obiettivi dell'agenda del neodirettore dell'asl Salerno Gennaro Sosto che da fine agosto sarà chiamato a sostituire Mario Iervolino alla guida degli uffici di Vianinze il manager dovrà subito mantenere mano mettere mano alla sostituzione dei tanti medici di base in prepensionamento e all'anemia di operatori sanitari nel pronto soccorso e nei reparti ospedalieri chiudiamo questa pagina andiamo avanti sempre sulle pagine del mattino di Salerno vediamo invece quali sono le notizie provenienti dalla Piana del Sele dal Cilento dai Picentini e dal Vallo di Diano in apertura andiamo a Battipaglia quindi nella Piana del Sele vediamo droga e prostituzione repulisti interforze con arresti e sequestri controllate 341 persone 245 veicoli preso un pusher ventenne di vieti di dimora per le lucciole multe per merce non conforme andiamo avanti la Lega Pontecagnano rilancia un nuovo direttivo e poi a Eboli ancora la cronaca vandali allermice rabbia e stop alle escursioni vediamo le notizie in basso Camerota serviranno altre analisi per appurare le cause della morte del giovane Cuoco resta ancora avvolta nel mistero la morte di Antonio Capone l'esame autoptico non sarebbe stato sufficiente almeno in questa fase per identificare e cristallizzare le cause del decesso del giovane Cuoco trentenne di Casoria trovato esanime in camera sua il medico legale ha disposto altri esami è probabile che la morte sia legata a qualcosa che il ragazzo aveva ingerito un'ipotesi da accertare insieme a tutte le altre al vaglio della procura della Repubblica di Vallo della Lucania a Capaccio Pessum Cilento modello Londra inaugura oggi la CTI per le notizie invece riportate di spalla 118 al nel distretto 72 piano liti e veleni sulle novità annunciate parliamo delle nuove postazioni previste per quanto riguarda le ambulanze sia rianimativa che sarà spostata da Sant'Arsenio a Sala Consilina che per le ambulanze con medico e con infermiere e poi invece a Palomonte sbatte la testa contro l'albero 46enne muore dopo l'agonia questa è la notizia di cronaca queste sono alcune delle notizie che troverete sul quotidiano il mattino andiamo ora invece sulle pagine del quotidiano le cronache si parla del biliardino del calcio balilla il gioco di tantissime generazioni di giovani ma anche di meno giovani tuttora in voga che è stato identificato come gioco d'azzardo dall'agenzia delle dogane che dovrà essere quindi nelle strutture dove è presente dovrà essere quindi denunciato parole decisione questa che non piace ad alcuni albergatori in particolare che si occupano proprio del settore ricettivo ed ecco che tra questi parla il responsabile è il titolare dell'hotel Cristallo di Capaccio Pestum vediamo Raffaele Pisacane assurdo paragonare il biliardino ad un gioco d'azzardo giù le mani dal calcio balilla questo invece il titolo il titolare dell'hotel Cristallo come il ping pong sono giochi gratuiti che mettiamo a disposizione dei clienti non possono essere tassati vediamo la parte dell'articolo chi l'avrebbe mai detto che il calcio balilla o anche biliardino gioco che appassiona anche Papa Francesco e che soprattutto negli anni 70 80 e 90 appassionato tantissimi ragazzi ancora oggi ha il suo fascino sulle nuove oltre che sulle vecchie generazioni potesse venire paragonato ai video poker chi l'avrebbe mai pensato che per qualcuno dell'agenzia delle dogane è stato considerato il calcio balilla e il flipper come giochi pericolosi e sì perché anche i flipper ed il ping pong sono diventati sempre secondo qualcuno dei giochi pericolosi che creano dipendenze che gestori dei liri perché questi sono giochi molto più estivi da stabilimenti baldeari che da locali e bar sono obbligati a denunciarli all'agenzia delle dogane anche se gratuiti e si deve attendere l'autorizzazione in assenza arriverebbero e sono già arrivate sanzioni salatissime pari a circa 4.000 euro e chiudiamo questa pagina andiamo avanti sempre sulle pagine di Le Cronache andiamo ora invece in costiera Amalfitana per quanto riguarda la viabilità soprattutto con l'arrivo della stagione estiva vediamo viabilità i sindaci scrivono al prefetto oggi verifica con ANAS su statale 166 parla il prefetto vedremo se apportare quelle modifiche quegli aggiustamenti che sono compatibili con una gestione ordinata del traffico mentre i sindaci della costa da Amalfi chiedono modifiche all'ordinanza dell'ANAS 34019 specificatamente alla regolamentazione della mobilità sulla statale 163 amalfitana a targhe alterne il prefetto di Salerno Francesco Russo annuncia che oggi ci sarà una verifica a tutto campo insieme all'ANAS per apportare eventualmente quelle modifiche quegli aggiustamenti che siano compatibili con una gestione ordinata del traffico in modo tale che possano essere ben recepite queste modifiche andiamo avanti andiamo avanti parliamo ora di novità per quanto riguarda il settore turistico che viene collegato allo sport nascono i primi agriturismi sportivi vediamo di cosa si tratta nasce la prima rete degli agriturismi sportivi questo è il titolo si sono diplomati due titolari di aziende cilentane Antonio Di Iorio di Sicignano degli Alburni e Marzia Sansone di San Mauro Labruca nasce in campagna la prima rete italiana di agriturismi sport grazie alla sinergia tra il comitato regionale del CONI e la federazione regionale di Coldiretti in collaborazione con Terra Nostra Campana che associa gli agriturismi campagna amica si è concluso a Torre del Greco il corso per direttore e operatore di strutture turistiche in agriturismo validato dalla scuola dello sport del CONI fondo Valle Calore completamento primo lotto secondo stralcio in località Mainardo la provincia di Salerno prosegue per migliorare la viabilità in un'area strategica e poi andiamo a Sanza la nuova confermata l'iniziativa a sostegno dei cittadini di Sanza che vanno in vacanza vanno a trascorrere delle giornate di vacanza a Policastro Bussentino c'è l'accordo infatti con Santa Marina vediamo a Policastro Bussentino parcheggi al mare agevolati per i cittadini di Sanza abbiamo scelto di replicare l'iniziativa attivata anche negli scorsi anni considerando anche il successo riscontrato anche per l'estate 2022 grazie alla sinergia attivata con il comune tra il comune di Sanza e il comune di Santa Marina i cittadini di Sanza che sceglieranno di trascorrere le proprie vacanze nel golfo di Policastro potranno godere di tariffe agevolate per il parcheggio delle auto chiudiamo anche questa pagina parliamo ora di sport vediamo la Salernitana come si sta muovendo sul mercato vediamo Salernitana ti rubano i gioielli in bilico La Sanna Boinen Ederson e Diuric la Salernitana dopo Verdi Bonazzoli e Ranieri rischia di perdere gli altri pilassi dell'impresa Salvezza il Bologna ha messo nel mirino il norvegese ed il Maliano l'Atalanta ha rilanciato per il brasiliano mentre la Fiorentina ha in pugno il bosniaco ed anche Mazzocchi è richiestissimo intanto per quanto riguarda i possibili nuovi arrivi c'è Arcadius Milik vediamo 12 milioni per Milik nelle prossime ore potrebbe decisamente decollare la trattativa per portare Arcadius Milik alla Salernitana sul tavolo del Marsiglia la società Granate è pronta a presentare un'offerta di 12 milioni di euro tanti quanto il club francese appena versato nelle casse sociali del Napoli per riscattare il cartellino dell'attaccante polacco un riscatto per la verità resosi obbligatorio dopo che alcune condizioni inserite nel contratto di Milik si sono verificate nella passata stagione e con questa pagina termina la nostra rassegna stampa io vi ricordo l'appuntamento alle 13.45 con il nostro Tg grazie per averci seguito auguro a tutti una buona giornata una buona giornata grazie per averci seguito